Sì, ciao a tutti amici di Studio Camurrina, ben ritrovati, come vedete alle mie spalle, mi trovo al porto di Genova, quella lì in fondo, la G&B, la Suprema, che prenderò tra qualche oretta. Sono molto emozionato, soddisfatto dei miei allievi di questo fine anno scolastico, stato intenso, folle, assurdo, ma ricco di emozioni. Ringrazio tutti per la collaborazione, per l'affetto, sicuramente è un anno fantastico. Bene, mi ricordo che tra qualche oretta salirò a bordo e il prezzo del biglietto è 65 ore, e per 20 ore sarò a Palermo. Bene, non mi resta che darvi un caloroso abbraccio, un saluto da Studio Camurrina. Ciao!